Vai! Da dove si inizia? Da questo! È più piccolo eh? Che flippard! Mi voglio un fa danno eh? Se no poi c'è le macelle Veloce! Guarda che unboxing! Mamma mia! Tanti auguri a me! Tanti auguri a me! Tanti auguri a me! Tanti auguri! Vada qua! Wow! Aperlo! Prego signorina vado a mettere questo! Perché io? Vai! Dai! Vai! 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 Ah bello il libro! Vado a vedere! 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 Questa è il Rock Legend! È il titolo! Vado a vedere! 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 Piano! Se ti taglio le mani! Questo ce l'avevo di giallo! Doppione! Vado a vedere! Vado a vedere! Ci rimanda indietro! Via! Non scherziamo! È stampato meglio questo! Sono tutti testi! C'è un po' di testi! Vediamo se c'è! Non mi ricordo meglio se c'è! Qui? Oh! Calma! Mantieniamo la calma! Taglio le mani! Poi dopo voglio vedere così! Sì! Wow! E qui c'è il diarrandello! Uno! Due! Guarda là! Eh! D'altronde non avevamo neanche un cd delizio! Questo comodava! La comodava! Comodava sì! Guarda! Eh! Bisognerà riascoltare tutto! Via! Come me! Se no uno rileva braffa! Come? Buon compleanno a me! Buon compleanno a me! E la torta è per me! Eh sì! Vabbè! Ciao!